santa erene di lecce sarebbe vissuta nel quarto secolo e sarebbe stata figlia di vicinio il futuro imperatore e amico del grande costantino si racconta che quando aveva sei anni il padre la chiuse con 13 serve in una torre dove fu istruita da un angelo e poi battezzata venuto a sapere della conversione della figlia il padre la legò a un cavallo che invece di trascinarla via lo morse causandogli la morte grazie alle preghiere di irene licinio tornò in vita e si fece cristiano con la moglie 3000 sudditi irene venne poi arrestata e decapitata anche i copti cioè i cristiani dell'egitto e la chiesa dell'etiopia onorano una santa irene e tramandano che sia stata figlia di un re licinio è patrona di lecce dove in una delle più belle chiese barocche della città sono conservate le sue reliquie